Musica Prima di iniziare con il video vi ricordo che ho creato un nuovo canale su Telegram Dove troverete ovviamente il link in descrizione da questo video Niente, il canale verrà utilizzato solamente come spam per pubblicità, game, video e news riguardanti i modi di GTA 5 online Quindi niente, se avete Telegram, avete scaricato nel mostro cellulare, vi lascio il link in descrizione Mi raccomando ragazzi entrate, dobbiamo assolutamente arrivare intorno ai 3.000 membri Detto questo, nulla, io non vi rubo altro tempo, vi lascio al video Buon menzione! Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati qui nel mio canale Io sono Krix, oggi ragazzi sono qui finalmente sui anime Ritornato con un nuovo glitch bomba su GTA 5 online Come state YouTube? Spero tutto bene Oggi ragazzi sono qui dove come avete detto dal titolo vi andrò a presentare un glitch Che vi permetterà di vendere praticamente la LG RH8 a 900.000 dollari Come sapete ultimamente ci sono stati questi tipo di glitch Anche in passato ne sono usciti un paio di cui ci ho postato il video sul canale Ebbene prima del rilascio dell'aggiornamento questo glitch continuava a funzionare L'unica differenza dal glitch che andete a vedere oggi a quello che funzionava prima del rilascio del nuovo aggiornamento È un fatto di timing possiamo dire Perché dovevate recarvi all'RC bandito Dovevate praticamente staccare la connessione al momento giusto quando il meccanico iniziava a parlare O almeno per quanto abbia potuto vedere delle versioni su YouTube Tutte le persone dicevano di fare in questo modo Quindi in questa nuova versione non avrete bisogno di nessun timing Potete appunto fare questo glitch con molta calma E soprattutto ragazzi è veramente facile eseguirlo Per chi non conoscesse il glitch praticamente è un glitch che ci consente di vendere praticamente la RH8 Che appunto è gratis Quindi normalmente quando l'ha andata a vendere il veicolo non ha valore Riusciremo a venderla a 900.000 dollari Quindi un glitch veramente ragazzi molto facile Prima di iniziare sapete già cosa fare Mi raccomando lasciate il vostro mitico bell pollichonsons in su Per altri contenuti e per altri glitch in arrivo sul canale Inoltre vi ricordo di ovviamente seguirmi su Instagram e nel mio nuovo canale gruppo Telegram Vi ricordo anche che se avete bisogno di account moddati Account glitch atti su PS4 per provare il nuovo DLC Potete contattarmi ad uno dei contatti che troverete in descrizione Per appunto fare l'acquisto di uno di questi account moddati Vi ricordo che abbiamo disponibili anche servizi di recovery per PC Quindi insomma se siete interessati prezzo veramente bassissimo Link in descrizione Detto questo spero di non aver dimenticato niente E possiamo subito iniziare con il video Per quanto riguarda i requisiti ragazzi Questi sono tutti i requisiti che vi serviranno per poter fare questo glitch Quindi come vedete sono abbastanza pochi requisiti L'unica cosa che voglio dirvi prima di continuare È la seguente ossia il luogo di rientro Come vedete il luogo di rientro dovrà essere impostato su qualsiasi punto voi vogliate Quindi casuale, ultima posizione, un appartamento, un garage che sia Basta ragazzi che non andrete a posizionare il luogo di rientro sulla arena Quindi potete impostare qualsiasi luogo di rientro Purché appunto non sia l'arena Quindi va bene il ceo, vanno bene dei garage Va bene ultima posizione Va bene il luogo di rientro casuale Basta che appunto ragazzi non mettete il luogo di rientro su ultima posizione Inoltre vi consiglio di usare la mira manuale per fare questo glitch Per il semplice motivo che appunto andremo ad utilizzare il glitch del teletrasporto Se non sapete come si fa il glitch del teletrasporto Semplicemente vi lascerò un link in descrizione come anche un link nelle schede Comunque di per sé è veramente molto facile fare il glitch E andremo a usare appunto il glitch del teletrasporto usando la mira manuale Perché ci farà risparmiare molto molto tempo Inoltre potete fare questo glitch senza effettivamente avere un milione per applicare la modifica custom In quanto non dovremo fare appunto uno step di confermare eccetera Come magari lo è stato per i scorsi glitch Ma anche se abbiamo per esempio 100.000 dollari Abbiamo l'arena, l'RC bandito dell'RH8 Appunto ragazzi potremo normalmente e tranquillamente fare questo glitch senza essere disturbati Detto questo ragazzi direi che possiamo subito iniziare con il video Perché insomma vi ho già scartavetrato i cojones E lo riconosco e bene Chiudiamo parentesi stai zitto Griggs e vai a spiegare il glitch Ok ci avete ragione La prima cosa da fare ragazzi sarà entrare in GTA Online in una sessione solo ad invito Una volta che sarete entrati ragazzi dovrete semplicemente trovare un modo per recarvi all'arena Come vi ho già detto il luogo di rientro potete impostarlo su qualsiasi parte voi vogliate Tranne che appunto l'arena Quindi mi raccomando non impostate il luogo di rientro sull'arena Altrimenti non andrà a funzionare Io in questo caso utilizzerò ultima posizione Ma non mi farà spawnare all'interno dell'arena ma mi farà spawnare fuori Per iniziare il glitch è veramente molto semplice La prima cosa da fare sarà recarci praticamente dove c'è lo scaffale contenente l'RC bandito Dovremmo avvicinarci appunto allo scaffale dell'RC bandito Quando il gioco ci darà l'opzione di premere freccia destra sul controller Noi andremo a premere freccia destra per praticamente modificare l'RC bandito Quindi premiamo freccia destra il gioco ci farà aprire il menu delle modifiche dell'RC bandito A questo punto dovremo aspettare circa 1-2 secondi all'interno di questo menu Una volta fatto ciò dovremo semplicemente premere il tasto PS Dovremmo andare su impostazioni Dovremmo andare su rete e dovremo andare a togliere la spunta sul box del connetti ad internet Una volta aver tolto la spunta ragazzi semplicemente dovremo premere il tasto PS E ritornare all'interno del gioco Quando rientreremo all'interno del gioco ci sarà per prima cosa una schermata nera Successivamente il gioco vi farà comparire un messaggio di attenzione Dove vi dice che la connessione è andata interrotta Non preoccupatevi di questo messaggio ragazzi Semplicemente confermate con il tasto X e ritornate all'interno della storia Comunque sì ragazzi i passaggi per Xbox One sono gli stessi Quindi seguite con attenzione perché il glitch è veramente molto semplice E funziona allo stesso modo anche su Xbox One Io comunque sia spiegherò i passaggi per PS4 perché mi trovo più comodo Ma comunque su Xbox potete seguire i passaggi sono gli stessi Una volta che quindi ragazzi sarete ritornati all'interno della modalità storia Aspettate in base al personaggio che vi trovate Insomma se ci sono dei filmati aspettate il filmato Finché non potrete appunto giocare con il vostro personaggio della storia Una volta fatto ciò semplicemente dovrete andare a riattivare la connessione ad internet Per farlo semplicemente o premete due volte il tasto PS Da fare in modo tale che il gioco possiamo dire vi aprirà il menu della connessione internet della Playstation Oppure semplicemente andate su tasto PS impostazioni in rete E andate a questo punto a rimettere la spunta sul box del connetti ad internet Una volta aver riattivato la spunta premete due volte il tasto PS per ritornare nel gioco Oppure tasto PS una volta poi X sull'applicazione di GTA per appunto ritornare nel gioco Io comunque sia come avete visto dal video ho cliccato possiamo dire due volte il tasto PS Mi trovo molto più comodo A questo punto una volta aver riattivato la connessione Aspettate circa 5-6 secondi Il tempo minimo comunque per far ritornare la connessione possiamo dire E una volta che la connessione sarà tornata Dovrete semplicemente premere il menu di pausa Dovrete andare su online Dovrete andare su gioco a GTA online E dovrete entrare a questo punto in una nuova sessione solo ad invito di GTA online Una volta fatto c'è ragazzi Semplicemente aspettate che il gioco vi farà spawnare all'interno della nuova sessione E come potete vedere io in questo caso avevo il luogo di rientro su ultima posizione Quindi mi ha fatto spawnare praticamente ai piedi dell'arena E va bene lo stesso Vi ricordo che il luogo di rientro non dovrà essere piazzato sull'arena Quindi non dovrete appunto avere il luogo di rientro magari sull'alloggio dell'arena Ma appunto dovrete avere un luogo di rientro da qualsiasi altra parte Purché appunto non sia l'arena Mi raccomando ragazzi questo step del luogo di rientro è molto importante Quindi una volta che sarete spawnati appunto all'interno della nuova sessione Dovrete semplicemente entrare a questo punto all'interno della vostra arena Una volta che sarete all'interno della vostra arena Dovrete entrare praticamente nell'officina e non negli altri piani del garage B1 o B2 magari Ma appunto nella officina dell'arena Quando sarete entrati all'interno dell'officina dell'arena Semplicemente a questo punto recatevi in una LG RH8 che volete Quindi entrate nel piano del garage dell'officina Appunto scegliete una RH8 e salite all'interno Una volta ragazzi che sarete saliti all'interno della LG RH8 Dovrete semplicemente premere freccia destra Quando avrete premuto freccia destra noterete che praticamente vi si aprirà il menu delle modifiche Però senza che il gioco vi faccia andare alla officina dell'arena normalmente Vuol dire che appunto il glitch sta funzionando Comunque sia prestate attenzione appunto al video Quindi una volta che vi troverete con questo menu sul posto possiamo dire della RH8 Quindi non vi farà entrare all'interno dell'officina Vuol dire che appunto il glitch sta funzionando e potremo continuare Quindi quello che dovremo fare in questo menu sarà semplicemente andare sulla opzione vendi Quando ci troveremo ragazzi praticamente all'interno dell'opzione vendi Dovremo confermare a questo punto di voler vendere il veicolo Quindi andiamo sulla opzione vendi Entriamo all'interno del menu della vendita del veicolo E dovremo confermare di voler vendere il veicolo a 0 dollari Quindi schiacciamo X una volta Se è sicuro di voler vendere questo veicolo ragazzi E dovremo a questo punto confermare Quindi una volta aver confermata la vendita della RH8 Praticamente non succederà niente nel gioco Ma ci ritroveremo con una schermata nera come avete visto dal video Quello che dovremo fare in questa schermata nera Sarà una schermata nera di caricamento infinito Quindi quello che dovrete fare sarà premere il tasto PS Dovrete a questo punto andare a partecipare da un amico O comunque sia da un giocatore preso a caso nelle community Io in questo caso utilizzerò un amico che si trova in mira diversa dalla mia Ecco perché appunto ho detto che ci servirà la mira manuale Perché a questo punto quando ci troveremo appunto con questa schermata nera di caricamento infinito Dovremo andare a partecipare da una persona che abbia una modalità di puntamento diversa dalla nostra Vi faccio un esempio Se appunto io ho la mira manuale dovrò andare a partecipare da un giocatore che ha la mira assistita Detto in parole povere e semplicemente potete fare questa operazione O partecipando da un vostro amico oppure se avete la mira manuale Basterà entrare in una community con persone a caso e andare a partecipare alla sessione del primo che vi capita Io comunque sia ho utilizzato il party Quindi dovrete andare a partecipare praticamente alla sessione di questo giocatore preso a caso dalle community Una volta aver schiacciato praticamente sulla spunta del partecipa alla sessione Il gioco vi farà ritornare con la schermata nera di caricamento infinito A questo punto partirà il recupero dettagli della sessione e dovrete aspettare il recupero dettagli appunto della sessione di gt online A questo punto ci sarà un primo messaggio di attenzione dove vi chiedo se vorrete unirvi a una diversa sessione di gt online Quello che dovrete fare su questo messaggio sarà stare fermi Dovrete premere due volte tasto bs e la playstation o comunque l'xbox vi farà ritornare A me in questo caso nel party a voi vi farà ritornare sulle community E dovrete a questo punto andare a ripartecipare alla sessione della stessa persona A questo punto una volta aver schiacciato a partecipare alla sessione dalla stessa persona Se quando vi farà ritornare nel gioco il messaggio cambierà da voi unirti a una diversa sessione di gt online A questo messaggio che state leggendo della modalità di puntamento Allora vuol dire che questo giocatore ha una modalità di puntamento diversa dalla vostra E che quindi va bene per continuare a fare il glitch Oppure se vi esce lo stesso messaggio di prima Quindi voi unirti a una diversa sessione di gt online eccetera Questo giocatore non andrà bene e dovrete appunto partecipare da un altro giocatore Preso a caso dalle community finché appunto non vi andrà a cambiare il messaggio A questo punto se vi cambierà il messaggio Semplicemente su questo secondo messaggio tra virgolette lo andate a rifiutare Una volta aver rifiutato il messaggio come vedete non succederà niente Vi ritroverete con la vostra RH8 alla stessa posizione di prima possiamo dire Quindi tecnicamente non avete ancora venduto il veicolo Vuol dire che a questo punto il glitch sta funzionando Quando vi troverete quindi in questa situazione Semplicemente stando all'interno del veicolo ragazzi Dovrete premere la freccia destra per entrare all'interno dell'officina Quando entrerete all'interno dell'officina praticamente come vedete vi farà una schermata buggata Dove vi farà vedere che ci sarà la RH8 ferma all'entrata prima di entrare nell'officina Vuol dire che appunto il glitch sta funzionando A questo punto aspettate di entrare all'interno dell'officina E ora come ultimo step quello che ci basterà fare sarà semplicemente Quando ci si aprirà il menu delle modifiche della RH8 Dovremo andare semplicemente sulla prima modifica Quindi l'opzione dove ci dice modifica Bennis Original Motorwork Dovremo appunto schiacciare ragazzi in questo menu Quando praticamente avremo schiacciato X per entrare in questo menu Come vedete il gioco ci chiederà di modificare la LG Retro Custom Bene tutto quello che dovete fare adesso in questo momento Sarà stare fermi in questo menu per almeno 10 secondi 10-15 secondi comunque è indifferente Una volta fatto ciò quello che dovrete fare semplicemente sarà Rifiutare quindi premere tasto cerchio due volte In tale modo da uscire dal menu delle modifiche della RH8 Ed uscire anche diciamo sul menu di uscita Quando vi troverete quindi sul menu di uscita Dove vi chiede di uscire dall'officina Uscire dal veicolo o uscire dall'arena Voi appunto ragazzi dovrete selezionare la prima opzione Ossia esci dall'officina Quindi quando appunto vi troverete con il menu Delle modifiche della Retro Custom Semplicemente aspettate 10 secondi in quel menu Una volta fatto ciò cerchio cerchio E appunto fate esci dall'officina A questo punto se il glitch avrà funzionato Come vedete ci sarà una piccola schermata di caricamento Qualche seconda dopo Il gioco vi farà spawnare il vostro personaggio All'interno dell'officina dell'arena E vi avrà accreditato i 900.000 dollari Ora in questo caso ci sono gli sconti Sulle modifiche di Bennys Quindi se nel video avete visto che la LG RH8 vale solamente 600.000 dollari È perché questa settimana fino alla mattina di giovedì 20 agosto Ci saranno appunto gli sconti su tutte le modifiche di Bennys Però normalmente appena gli sconti andranno via Se questo glitch continuerà a funzionare Riuscirete a vendere la RH8 a 900.000 dollari E non appunto a 600.000 come avete visto dal video Io comunque sia ho voluto portarvi il video In tal modo appunto da farvelo fare In modo che appunto tutti possano fare qualche big money no? Ora se vorremmo continuare a fare questo glitch Ci basterà semplicemente riniziare il glitch da capo Quindi recarci nel menu dell'RC bandito Premere il tasto PS Andare su impostazioni, rete Togliere la connessione Ritornare nel gioco Confermare il messaggio Aspettare di tornare nella storia Poi riattivare internet Tornare in una nuova sessione solo ad invito Eccetera 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 Insomma vi lascerò comunque sia la clip In tal modo da farvi vedere come funziona questo glitch Direi che per questo glitch ragazzi può essere tutto L'unica precisazione che voglio fare È che ovviamente questo glitch influisce sul vostro limite giornaliero Quindi cercate di non esagerare con questo glitch Perché appunto ragazzi andrete ad sfruttare possiamo dire Il vostro limite giornaliero Quindi vi consiglio di fare questo glitch magari Una o due volte al giorno a distanza di ore Perché appunto considerate che come già detto Questo glitch influisce sulle vostre vendite Quindi se magari avrete la possibilità di vendere uno o due veicoli Cercate di risparmiare il più possibile del tempo Perché altrimenti se avete una sola vendita Potete effettuare questo glitch una sola volta Questo glitch influisce molto sul vostro limite giornaliero Questo perché ovviamente riguarda le vendite dei veicoli Anche se appunto durante il glitch andremo a vendere la RH8 Ma non ci darà alcun soldo E non andremo a perdere il veicolo inizialmente Avremo comunque ragazzi effettuato una vendita Lo stesso discorso vale alla fine Quando appunto dovremo uscire E il gioco ci darà i soldi Quindi cercare di fare questo glitch con molta cautela Se siete proprio a secco di soldi Fatelo magari una, due, tre volte consecutive E poi fermatevi perché appunto Altrimenti rischierete in ogni caso Il limite del blocco giornaliero Che esiste all'interno degli account di GTA Online Detto questo ragazzi che dire Nulla Io spero abbiate apprezzato Spero che questo glitch vi sia piaciuto Se così è stato mi raccomando Lasciate un bel Polly Johnson's in su Che a me fa veramente tanto piacere Me ne frega un cazzo se questo video è uscito lungo Ragazzi questo è il mio modo di spiegare È un glitch che di per sé comunque si fa in due o tre minuti Ma comunque per una spiegazione più approfondita È normale che io mi prenda più tempo Se non ti sta bene haters dei miei cabbasisi Ti pregarei anche di chiudere questo video E insomma bella Vi saluto Vi ringrazio ragazzi Qua da Griggs è tutto Io spero abbiate apprezzato Se così è stato mi raccomando Lasciate il vostro mitico Bell Polly Johnson's in su Che a me fa veramente tanto piacere Inoltre mi raccomando Iscrivetevi al canale per altri contenuti Attivando la campanellina Che trovate accanto al numero degli iscritti E soprattutto vi ricordo di seguirmi Nel mio nuovo canale Gruppo Telegram Perché sono in arrivo Tanti altri nuovi glitch Quindi se farete i bravi Zio Cricks vi posta Tanti altri nuovi glitch Con ovviamente Spiegazione dettagliata Perché se non spieghiamo Raga qua Non è che Insomma Capito no? Seguitemi anche su Instagram E vi ricordo che se vi servono Account moddati Account glitchati per PS4 Come anche servizi di recovery per PC Potete contattarmi Ad uno dei contatti Che troverete in descrizione Mi raccomando ragazzi Facciamo ripartire il mercato Che per me è veramente molto importante E anche perché sono rimasto Senza una lira Ma vabbè Non diciamolo in giro E nulla Io vi saluto Vi ringrazio ragazzi Per la Cricks è tutto Noi ci si becca Come al solito Con un prossimo video Prossima live Un prossimo glitch Bella Vagiuu